quando uno mente dove manda lo sguardo e ilenia non è una regola se studiassi un po di pnl tra l'altro lo trovi nel mio corso gratuito perché se vai su pnl punto gratis pnl punto gratis trovate i primi 16 moduli del practitioner di pnl lì troverai il M quindi lateralize movement che ti spiegano come funzionano gli accessi oculari gli accessi oculari ti dicono che per una persona destrimane quindi vuol dire destro cioè vabbè ce l'avete invertito rispetto a me quindi per una persona che non è mancina se guarda rispetto a a voi in alto a sinistra quindi la adesso qui non fate caso con la telecamera perché la telecamera inverte a modello specchio quindi non fate caso ai miei gesti quindi andate sul pnl gratis prendete il modulo dei LEM dei lateralize movement e capite c'è proprio l'immaginina c'è tutto comunque quando si va si dice che quando si va nel visivo costruito anziché nel visivo ricordato potrebbe essere un segnale di una menzogna ma non è detto non è detto ricordati di come si è sempre detto sia sulla pnl sia sulla comunicazione non verbale sia sui LEM quello che è un segnale una rondina non fa primavera quindi un segnale non fa una certezza un visivo costruito non è detto che sia una menzogna ci sono tanti altri segnali che potrebbero sgamare una menzogna ma nel momento in cui uno dice una cosa se è una reale menzogna ci saranno diversi segnali può essere il visivo costruito possono essere scarichi non verbali possono essere dei dei come si dice dei un modo di esporre il racconto in modo particolare comunque se volete se volete se volete fare dei test sulle persone quando avete il dubbio di che vi stia raccontando una menzogna chiedete più particolari fate più domande in maniera da scendere nei particolari lì lo vedrete perché se voi che ne so il marito che ti dice dove sei stato? dove sei stato a giocare a pallone? dai chi c'era in squadra? insomma fate domande che se fosse davvero andato a giocare a pallone dovrebbe ricordare le cose se invece va nel costruito costantemente e nello stesso tempo scarica non verbalmente qui se avete fatto il corso di comunicazione non verbale sempre che sta a suonare capite che cosa sono gli scarichi non verbali quindi magari grattamenti cose passi all'indietro insomma tutta una serie di segnali che sono scarichi tensionali cioè che mostrano una pressione interiore quindi una tensione interiore allora inizia più semplice cioè diventa più semplice attenzione però non è detto che se stia dicendo una menzogna vada nel visivo costruito perché potrebbe ricordare una scena vecchia cioè chi è che stava in squadra e magari ti va nel ricordato e ricorda la volta prima quindi questo non è detto per cui se voi fate più domande sempre più nello specifico e chi ha segnato? chi ha vinto? com'è andata? capite? non è soltanto gli occhi gli occhi possono fino a un certo punto però è tutto il corpo è tutto il corpo che vedrete che vi sta dicendo una bugia poi ci sono tantissimi altri segnali che possono sgamare una bugia il racconto gli errori temporali insomma ci sono tante altre cose che possono sgamare dovete informarvi un po' insomma non mi ricordo se lo spiego nel corso in qualche corso credo di spiegarlo grazie a tutti